Da attore a cantante, da produttore di vini a produttore cinematografico, si sveste così dai panni di Ridge Forrester, Ron Mons, che per 25 anni ha interpretato uno degli attori più amati nella soppopera americana Beautiful. Torna in Puglia dopo aver trascorso la quarantena in Belgio per riprendere e concludere le riprese di Viaggio a sorpresa a film, che lo vede protagonista e produttore. Vabbè, detto che ha girato l'Italia, ovviamente gli piace il ritmo che c'è in Puglia, che è un ritmo basso di relax, di tranquillità, oltre l'olio d'oliva, il vino, il cibo, eccetera, a differenza delle grandi città dove è tutto molto fast and furious. Le riprese sono iniziate ad agosto del 2019 tra Fasano, Alberobello, Cisternino, Locorotondo e Monopoli. La Puglia lo è incantato, tanto da aver investito in regione su uno dei prodotti che meglio parlano del territorio, il vino. Lo scorso anno, infatti, è nato Moss Wine, il suo primitivo di Manduria, che ha sorseggiato in occasione dell'incontro con la stampa per presentare e parlare del suo film. Il film racconta la storia di Michael The Cruise, questo broker che vive la sua vita tra casa e Wall Street, sempre incastrato in quel tipo di vita. Decise di cambiare la storia della sua vita e comprarsi dei trulli e una masseria in Puglia e così fa quest'operazione immobiliare e quando parte per la Puglia per rogitare, arriva all'indirizzo, eccetera, ma la masseria non esiste. Quindi l'hanno fregato, cioè l'americano è stato fregato, solo che non va a denunciare dalla polizia ma cerca e chi è responsabile, come mai è potuto accadere questo e si imbatte in questa famiglia. E chi è responsabile?